Silvia Piccinini è comparsa con questo cartello che indica FICO all'uscita 10 della tangenziale, un cartello che ha suscitato le vostre proteste. Perché? Sì, le nostre proteste perché il codice della strada parla chiaro. La pubblicità in tangenziale e in autostrada non è concessa. Non vale questo per FICO, evidentemente perché gode delle simpatie del Partito Democratico e quindi ce lo ritroviamo addirittura all'interno di un cartello stradale. Questa non è altro che l'ennesima concessione che viene fatta ad un'attività commerciale privata, che si aggiunge agli spazi dati senza uno straccio di bando pubblico o procedura ad evidenza pubblica, che si aggiunge alle navette che dovevano servire a beneficio di tutta la città e in realtà adesso sarà la disposizione di FICO, che si aggiunge ai parcheggi di proprietà pubblica che vengono concessi gratuitamente quando la stessa persona che si reca a FICO per le prime due ore non paga, mentre per andare per esempio in un ospedale a trovare un proprio caro o a curarsi, quel parcheggio lo paga. Quindi questa è sostanzialmente la direzione che sta prendendo questa amministrazione che noi assolutamente non condividiamo, anche perché si metterà a rischio quello che è il vero tessuto imprenditoriale della nostra città che è nel centro storico, quindi parliamo delle piccole botteghe, parliamo delle piccole attività che sono quelle che avrebbero veramente bisogno di sostentamento e invece qui si va in senso contrario, depauperando il centro storico e portando turisti in questa che sarà, secondo noi finito l'effetto novità, una cattedrale nel deserto e che non avrà secondo noi futuro.